ciao ragazzi sono marco il cino io resto a casa dopo tanti anni di militanza nelle discoteche piste da ballo anche io resto a casa sì perché ne vale la pena è per noi per salvaguardare la nostra in comunità e rimaniamo a casa dai che ci sorridiamo siamo in famiglia scopriamo nuovi giochi nuove cose che magari abbiamo un po perso per questo tram tram della vita moderna però per torneremo presto a ballare mi sto ballando sotto anche io ho voglia di mettere musica come tutti i giovedì faccio allo zanussi e naturalmente per non perdere l'abitudine sono qui appunto per farvi ballare una cosa minutino di una cosa nuova che sicuramente avrei messo ma torneremo presto attenzione torneremo lo che chiede bailare timba salsa e reggaeton come si fa tutti i giovedì allo zanussi quindi mi raccomando teniamo forte che la facciamo forza 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 ti ricordo giovedì è dello zanussi ciao